Ragazzi, oggi Alba Adriatica, una nuova pizzeria, Granum, una pizza contemporanea che assomiglia alla pizza napoletana. Andiamo! Alba Adriatica Siamo da Granum, è arrivata la nostra margherita, profumo di Napoli, ragazzi, vai qua, farò vedere, guarda che bella, ragazzi, guardate che spettacolo, diamo l'assaggio di nuovo, vai! Questa pizza è veramente ottima, vi la consiglio, venite ad Alba Adriatica, a Granum. Grazie a tutti!